la chiesa mi dai una mano mi metti le guardie svizzere qua visto che è una porta sante della prima e visto che in qualche modo ti appartiene ti fai garante di questa cosa così a noi in qualche modo crea la possibilità di portare qua del turismo perché è giusto che venga qualcuno a vedere delle cose che sono unite al mondo ecco da quella porta lì io sono intrasimato dove c'è quel mezzo meccanico e la porta sante sarebbe questa apertura qui mancano i battenti ho visto che li hanno tolto ora questa è la prima porta santa al mondo al mondo dopo è venuta quella di san pietro prima questa qua non si capisce perché non ci siano le guardie svizzere esatto visto che in qualche modo questo ha dato inizio al concetto di porta santa per tutta la cristianità bene non è poca roba secondo me no è un bel po ok porta santa entriamo dentro e ci purificiamo da subito e cazzo mi sento già meglio eh ciao